Fra Girolamo Savonarola ritorna nel convento di San Marco a Firenze dove fu eletto priore il 16 maggio del 1491 e dove fu catturato la sera dell'8 aprile del 1498 per poi finire giustiziato in piazza della Signoria il 23 maggio di quell'anno. La direzione regionale Musei della Toscana e il Museo di San Marco hanno presentato per la prima volta al pubblico un'opera finora inedita, un nuovo busto in terracotta policroma del celebre predicatore domenicano attribuito a Marco della Robbia poi fra Mattia e risalente alla fine del XV e inizio del XVI secolo. Un'opera dichiarata di importante interesse dal Ministero della Cultura che si aggiunge alle raccolte del celebre Museo Fiorentino per essere collocata nell'ambiente che costituiva la Cappella del Savonarola. A questa grande novità si aggiunge anche la nuova illuminazione della celebre annunciazione dell'angelico simbolo del Museo e del Rinascimento Fiorentino. C'è sempre questa forte contrapposizione tra Savonaroliani e antisavonaroliani che prosegue sino all'Ottocento quando questa figura assume un ruolo che si sovrappone poi alle vicende politiche italiane del risorgimento, dell'anticlericalismo. Quindi per noi è molto interessante restituire questa centralità alla figura di Fra Savonarola qui a San Marco e insieme all'angelico che naturalmente è il nome tutelare di questo luogo è sempre stato l'altra grande figura domenicana che dà il segno della presenza di questo ordine così importante per la storia occidentale in questo museo.